bene ciao a tutti a tutti quei ragazzi che vogliono migliorare la tecnica del tamburo quindi andiamo oggi a suonare dei paradidol con flam e senza flam cioè paradidol normali e flam paradidol come vi ho fatto già sentire gli spostamenti di accenti avvengono sui quattro sedicesimi quindi sulla quartina primo secondo terzo quarto sedicesimo andiamo a vedere ora come possiamo fare questi esercizi secondo terzo quarto benissimo un po' più lento si capisce meglio adesso mettiamo il flam secondo terzo quarto benissimo adesso andiamo a fare con il metronomo a 113 di bpm così sentite ancora l'effetto degli accenti se lo sentite ancora di più con il metronomo benissimo benissimo allora è sempre bene studiare queste cose perché fanno bene alle mani allora le pacchette che sto usando faccio un po' di pubblicità sono le innovative percussion il modello è un signature Christopher Lamb è il percussionista della simponica di New York e quindi ha progettato delle pacchette bellissime per tamburo mi raccomando Innovative Percussion Christopher Lamb benissimo è sempre un piacere stare insieme a voi e vi lascio con questa lezione aperta buona visione ciao in e oh tutto